Occhio giornali, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino in diretta sul canale 17 di Fano TV. Allora iniziamo dal Santo, vediamo subito il cartello, poi andiamo a vedere il tempo e le notizie di oggi. Oggi è Santa Domitilla, il sole è sorto alle 5.53 e tramonterà alle 20.22. Uno sguardo al tempo con il sito della protezione civile delle Marche che per oggi prevede isolati piovaschi limitatamente ai versanti occidentali del crinale appenninico, ancora venti, venti con raffiche fino a tempesta sulle zone montane, fino a burrasca forte sulle zone collinari, fino a vento forte sul resto della regione. Per il resto domani invece ancora un po' di pioggia, deboli isolati piovaschi nelle zone collinari montane del sud delle Marche. Domenica 9 maggio invece cielo sereno con temperature però in diminuzione. Prima parte della settimana stabile, poi dopo un peggioramento insomma tra martedì e mercoledì. Ai giornali. I giornali cominciamo con il Carlino di Pesaro. Allora il titolo vaccini ora la categoria 60-64 anni, da domani le prenotazioni, si sblocca anche dunque la seconda dose per i 6.000 insegnanti rimasti sospesi. A centro pagina invece ecco l'estate della scuola, lezioni, laboratori e gite, tutt'altro che un incubo. Poi il Cristo di Vange è partito per la Corea, ora una stele per la città di Pesaro e poi Green Pass, sorridono solo le agenzie, turismo, gli hotel però arrancano. Poi ancora Ricci, il sindaco di Pesaro, lo screening, rifà lo screening ma cambia i tamponi dopo i casi dei falsi positivi e poi Parcheggi Blu, Rivolta dei Bagnini e un film dedicato a Tonino Benelli. Poi c'è anche il caso Afano, studente no mask finito in psichiatria, raffiche di protesta a 18 anni assurdo e ancora asfaltatura all'ora di pranzo, code proteste, traffico bloccato per i lavori nella rotatoria che creano il caos, dovevano farli alle 7 del mattino ma c'è stato un guasto. batte la testa nella fresa e muore un 95enne, affano l'uomo era rimasto con un braccio incastrato nella macchina, fatale il tentativo di liberarsi. Allora questa mattina la segna stampa la cominciamo non con la pagina del Covid, non con la pandemia, anche perché diciamo che insomma sta andando abbastanza bene, i numeri ci dicono che questa pandemia sta allentando un po' la morsa, anche se la nostra provincia, la nostra regione i contagi rallentano. Sono in diminuzione sì, ma molto lentamente, questo che preoccupa un po' di più. Ma dicevo cominciamo la rassegna stampa con la notizia che ieri ha fatto discutere tantissimo, si sono mobilitati praticamente da quasi tutta Italia, per questo ragazzo studente diciottenne che per la quinta volta, stando alla cronaca dei giornali, si era presentato in classe, parliamo di una scuola superiore di Fano, l'Olivetti, che si trova nel centro storico in Via Nolfi, e che per protesta aveva deciso per l'ennesima volta appunto di non indossare la mascherina. Questa è la cronaca, questo è quello che è stato raccontato fin qui. Stimolato da chi? Si parla di un fantomatico costituzionalista, cioè un uomo che forse approfittando della fragilità di questo ragazzo, gli ha inculcato qualche cosa in più nella testa. E fatto sta che questa vicenda, raccontata ieri dal resto del Calino, dal Corriere Adriatico, ha preso il sopravvento. E quando, anche io ieri mattina alle sei prima, durante la lettura, mentre stavo preparando la rassegna stampa, quando ho letto che un ragazzino di 18 anni era finito in ospedale, alla muragna, con un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, chiaramente mi ero scaldato e avevo cominciato a pensare a cosa poter dire in rassegna stampa ieri mattina. Poi in realtà mi sono placato e ho cercato di riflettere, perché innanzitutto non ci si può basare su una cronaca giornalistica, i fatti vanno visti a 360 gradi. Qui, come vedrete e vedrete tra un po', ci sono tanti pareri, tra cui quelli di migliaia di persone che hanno scritto ieri, hanno invaso la casella postale del Sindaco di Fano che ha firmato questo trattamento sanitario obbligatorio, tutti pareri legittimi, però mancano dei tasselli. Il tassello forse più importante è sicuramente quello dei genitori. Non c'è la presa di posizione dei genitori di questo ragazzo, i genitori non sono andati di corsa in ospedale a riprendersi il figlio, magari facendo a botte con gli infermieri, cioè non c'è nulla di tutto questo. Quindi evidentemente c'è una situazione che non è chiara, non viene raccontata e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo. Anche con le parole. Ma andiamo a vedere un attimo i giornali. Anche oggi il resto del carino torna su questa vicenda e il titolo è Non si può sbattere in psichiatria un 18enne che rifiuta la mascherina. Chiaro, detto così sembra veramente uno stato di polizia, neanche in tempo, neanche con i nazisti insomma. Ma ripeto, tutto questo letto così, così più o meno era ieri, ha scatenato un'ondata di proteste contro il TSO imposto al ragazzo di un istituto superiore fanese. Un docente dice io lo seguo da un anno ed è sempre stato corretto con i compagni che gli vogliono anche bene. Già qui si capisce che una persona che viene seguita evidentemente ha bisogno di essere guidato. Quindi è va bene. Ci si è messa anche la politica con addirittura un senatore della Lega che adesso vuol fare il probabilmente cavalcare un po' la situazione. E cosa dice questo senatore Armando Siri? Dice voglio i dettagli di questa vicenda che ha dell'incredibile. Andrà a fondo, poi aggiunge mi sto informando per avere dettagli, ma se fosse vero sarebbe di una gravità inaudita che ad un adolescente venga fatto un TSO a scuola perché in scena una protesta. Ma viva Dio, li vogliamo tutti imbambolati, rimbecilliti, davanti ad un computer senza spirito critico, nessuna evoluzione si realizza senza attrito tra generazioni. Le intemperanze giovanili sono il sintomo di una società viva e noi che cosa facciamo? Invece di confrontarci la sediamo, la soffochiamo con la forza. Questo è il parere della politica del leghista. Chiaramente la cosa che ha colpito più di tutti è stata la scelta di questo trattamento sanitario obbligatorio. Un TSO non credo che si faccia con leggerezza, insomma, solo perché scadute le due ore uno deve andare a pranzo, siccome al ragazzo hanno parlato due ore, dicono le cronache, si poteva andare avanti di più, ad oltranza si poteva star lì fino alla sera alle otto. Forse sì. È stato più sbrigativo un trattamento sanitario obbligatorio perché la scuola doveva chiudere dovevano pulire i banchi, non credo. Quindi la cosa che ha colpito di più sicuramente è la scelta del trattamento sanitario obbligatorio. Ieri se ne è dibattuto molto in città con tutti i giovani che frequentano questo istituto, che si dicono solidali con il ragazzo, ma la discussione si è aperta anche tra i docenti, più quelli che ritengono il provvedimento eccessivo di quelli che invece sostengono la tesi, che il ragazzo andava fermato prima. Ora, questo ragazzo è stato raggiunto ieri da gennaio e del resto del canino al telefono. Mi dicono che mi tratteranno, mi terranno, ha risposto al telefono, dice questo ragazzo, mi dicono che mi terranno qui per una settimana, rispondeva ieri al cellulare, calmo, tranquillo. E poi c'è qualcuno degli insegnanti che dice io lo seguo da un anno, si è sempre comportato bene con i compagni di classe, eccetera, che tra l'altro gli vogliono bene. E va bene. Ora, ripeto, vi lascio leggere l'articolo perché ancora spiega alcune cose che vanno certamente, che servono ancora per capire, farsi un'idea soprattutto, senza dare giudizi però, questo è importante. Ora, quello che secondo me la persona che ha parlato meglio di tutti, ma questo non poteva essere altrimenti perché è uno che con la malattia psichica ci lavora, ha a che fare, dà un'esperienza tale che forse è l'unico titolato a parlare, a dare un commento, è Vito Inserra. E qui andiamo sul Corriere Adriatico. Allora, intanto il titolo TSO, poi vedremo cosa dice Vito Inserra, TSO al ragazzo senza mascherina, proteste da tutta Italia, ieri pomeriggio su Twitter fatemi un TSO, era l'hashtag di tendenza, un profluvio di commenti sulla vicenda dello studente dell'Istituto Olivetti che mercoledì mattina si è presentato nuovamente a scuola senza mascherina, quindi c'erano già stati dei precedenti, protestando contro l'obbligo di indossare e rivendicando al contempo il diritto di partecipare alle elezioni in presenza come i suoi compagni di classe. È chiaro che è una persona che ha qualche, evidentemente, qualche problema, adesso non conosciamo il tipo, non ci interessa il tipo di problema, però certamente una persona che può avere qualche problema dal punto di vista mentale e che viene aizzato, viene continuamente da un'altra persona che gli dice cosa deve fare, cosa deve dire, è chiaro che si fa presto a fare la frittata. Ora, protestava contro l'obbligo di indossare e rivendicando al contempo il diritto di partecipare alle elezioni in presenza come i suoi compagni di classe ed è stato portato a psichiatria dove l'hanno trattenuto. Ora, abbiamo detto che la casella di posta elettronica del sindaco che ha firmato l'autorizzazione al trattamento sanitario obbligatorio è stata bombardata dai mail di protesta da tutta Italia, sono arrivate anche a firma di professionisti, insegnanti, psicologi che hanno utilizzato termini aggressivi e di condanna per quella che ritengono una lesione della libertà ma commenta la vicenda con una competenza specifica, vedete Lorenzo Furlani giustamente sottolinea questa competenza specifica, cioè l'unico che può parlare in tutta questa vicenda, è Vito Inserra, presidente di Liberamente, che lancia un appello. Si porti subito questo ragazzo in seno alla sua famiglia e si assistano lui e i suoi cari con quella prossimità necessaria e di civiltà. Questa è la cosa sicuramente da fare. Poi Inserra giustamente giudica sbagliato il TSO adottato verso chi voleva solo in modo evidente e scomodo per tutti dire che la nostra carta va attesa anche nella libertà personale, però insomma al di là di questo diciamo che ecco la cosa più importante da fare era quello di probabilmente portarlo a casa e di seguire un po' meglio sia lui che la famiglia. Ma ripeto anche qui l'articolo di Furlani è anche questo molto interessante ma soprattutto ecco quello che volevo sottolineare è questo. Non dobbiamo dare giudizi affrettati perché la verità non la sappiamo. Quindi giornalisticamente è emersa una parte, si è spinto per una parte di verità, ma ce n'è un'altra che è altrettanto importante e che non ci permette, non ci consente di stare lì troppo a filosofeggiare. Ecco quindi stiamo tranquilli e speriamo che adesso questo ragazzo si rimette in carreggiata e soprattutto questo costituzionalista eccetera venga in qualche modo identificato, messo da parte e lasciato e che lascia in pace questo ragazzo. Adesso andiamo avanti. Questa era una cosa, abbiamo speso un po' di tempo, sono le 7.15 ma andava fatto. Allora un incidente fatale invece, qui c'è la cronaca sempre da Fano, un incidente fatale con il motocoltivatore, purtroppo un 95enne morto nel campo accanto a casa. Nino Talamelli, questo era il suo nome, urta il telaio con violenza cercando di sbloccare la fresatrice. Purtroppo questa azione gli è stata fatale e sciocca a Carrara di Fano dove appunto abitava. Poi c'è un'altra notizia invece che è un'altra notizia importante, la Regione affonda la ciclovia del Metauro, se ne parla da tempo, ma la Regione Marche ha chiuso la conferenza di servizi aperta un anno fa, questo comporta quindi subito una serie di conseguenze. Quali sono queste conseguenze? Intanto il finanziamento da 4 milioni e mezzo di euro che erano pronti per realizzare l'opera, che a questo punto non sappiamo che fine faranno, verranno messi in cantina, si perderanno del tutto questi 4 milioni e mezzo, non lo sappiamo. Poi i soldi spesi inutilmente per il piano di fattibilità, cioè capire se si poteva fare o meno la ciclovia del Metauro, quindi ha costato dei soldi, soldi pubblici, soldi pubblici che ovviamente sono stati persi, visto che questo progetto non verrà mai alla luce. E poi rinviato di anni qualsiasi altro progetto alternativo, dovendo a questo punto espropriare tutti i terreni privati attivi alle case e quindi puntare poi su un'altra cosa da poter realizzare eventualmente un'altra pista ciclabile omogenea fino ad Urbino. Ma intanto questa notizia, che è già giunta agli orecchi di coloro che sostengono la ciclovia, domenica 9 maggio alle ore dalle 15.30 del pomeriggio alla stazione, quella che era la stazione dei treni di Cucurano di Fano, ci si ritroverà per una protesta, per manifestare questo dissenso, insomma questa scelta della regione di non fare la ciclovia. E protestano anche, non solo alla vecchia stazione di Cucurano di Fano, ma anche in Viale Adriatico, laddove già da ieri, come vi avevamo fatto vedere dal telegiornale, nel telegiornale si stanno colorando i parcheggi di blu, il che significa che per parcheggiare lì bisognerà spendere e tirare fuori i soldini. I bagnini sono già blu di rabbia, questo è il titolo, il piano di soste a pagamento in zona mare scatena le proteste dei gestori, ma uno dicono che viene in spiaggia quanto spende in un giorno, almeno attivate una navetta che porta i clienti fino a Lido e in Sassonia. Poi sotto anche i residenti, non solo quelli che andranno al mare, i residenti rincarano la dosi, dice io ho due automobili, dove le metto? Fano non è ancora pronta ad accogliere questa innovazione, a Riccione si sono preparati meglio, dice una infermiera. E poi la notizia invece è sempre da Fano, che le luci allo stadio Mancini sono state, in questi giorni vengono tolte quelle vecchie per mettere quelle nuove, sopra delle torri faro di ultima generazione, insomma già la prima è stata issata, è alta 36 metri, fa parte del gruppo di quattro che costituisce il nuovo impianto di illuminazione dello stadio, lavori per 600 mila euro. L'assessore Fanesi dice l'idea è di farlo a Chiaruccia, a proposito di un nuovo palazzetto dello sport, perché lo stadio va bene, ma serve anche un palazzetto dello sport, a livello infrastrutturale e sportivo siamo come città un po' carenti, diciamoci la verità, e puntiamo strutture di altissimo livello. Ma intanto sta arrivando la piscina, prima o poi arriverà anche il palazzetto dello sport. Intanto dal Corriere di Fano, notte di violenza, sei anni e mezzo di carcere, pesante condanna di un 42enne che ha abusato della finanzata in una camera presa in affitto. Si erano dati appuntamento perché lei era libera dal lavoro, la difesa però, dice, erano entrambi ubriachi. Nuova illuminazione, ora il Mancini a norma, alzati i maxi pali di 36 metri con i proiettori ad incandescenza, il programma dei lavori, si potranno disputare in notturna le partite di calcio di serie C e di categorie addirittura superiori. Adesso la pandemia, con la trappola delle sette sataniche boom di adesioni con il lockdown. Qui c'è un intervento che vi segnalo di Donaldo Bonaiuto, che è il presidente dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e del servizio Antisette. È un articolo molto interessante. I giovani che stanno praticamente, hanno passato mesi e mesi al computer, chiusi in camera perché non potevano uscire, e purtroppo sono finiti in siti sbagliati. C'è un aumento delle segnalazioni del 30%. Pensate che ogni giorno questa associazione che sta qui a Rimini riceve telefonate di giovani che sono finiti in mano a queste sette, che non necessariamente sono sataniche, ma fanno cose sataniche. E quindi adesso chiedono come uscire, non riescono più a uscire da queste sette. E quindi è un problema. Di questo se ne parla nel giornale di oggi. I contagi, dicevamo, sono in discesa, ma l'indice RT risale. Ancora siamo in zona gialla. Le marche hanno i numeri in regola per ottenere la conferma in fascia moderata nel report di oggi, oggi e venerdì. Continuano a diminuire i ricoveri. Nelle terapie intensive l'occupazione è vicina al 30%, quindi siamo al limite. Però c'è un però. Le province di Pesero, Urbino e Ascoli Piceno continuano ad avere un'incidenza elevata. Troppi sono quelli che ancora si contagiano in provincia di Pesero e in quella di Ascoli Piceno. Oltre 90.000 guariti dall'inizio dell'epidemia. Ieri altre tre le vittime di questo virus. Marche stabili, numeri da zona gialla, titolo del resto del calino, ma ora i contagi non scendono più. Il governatore Acquaroli invita alla prudenza, massima attenzione. Il virus gira ancora ed è presente. In discesa ricovera i decessi. I dati dell'Agenas dicono che il tasso di occupazione delle terapie intensive al 32%. Quindi ci stiamo avvicinando al 30%, che è il minimo sindacale che possiamo fare. Però anche qui nella pagina di Pesero, Acquaroli, Occhi e Contagi non scendono. Il Presidente invita alla cautela. Intanto sui vaccini alla categoria 60-64 anni ci siamo, da domani scattano le prenotazioni. Quindi per questo regno 60-64 anni da domani si possono prenotare i vaccini. Rischio arancione per tre. Non fermatevi ai numeri. Qui c'è un'intervista sul Corriere Adriatico al Sindaco di Acqualagna che spiega qui tutti i contagi sono in ambito scolastico. Non ci sono focolai. Coinvolte solo le famiglie dei ragazzini che sono tornati a scuola. Come dire, il Paese è tranquillo. Sappiamo chi sono. Sappiamo dove sono e come si sono contagiati. Quindi sono tutti in sicurezza. Se ci basiamo soltanto sui numeri è chiaro che Acqualagna sarà costretta ad andare in zona arancione rafforzato. Ma siccome non si tratta di focolai sparsi o che ancora sono da individuare, il Sindaco di Acqualagna lancia questo invito a evitare di penalizzare questo Paese e di chiuderlo con restrizioni. Intanto da lunedì dosi anche agli over 50. Ecco, questa è la notizia del giorno. Ovvero che da lunedì arriveranno le dosi anche per chi ha 50 anni. Quindi come vedete si apre dai 60 ai 64 ma addirittura a chi ha più di 50 anni. Quindi è l'ora dei cinquantenni. Ecco, da lunedì si potranno prenotare in atti tra il 1962 e il 1971. Ed è un annuncio che attendevano milioni di persone, 9 milioni e mezzo di persone. Poi c'è anche quest'altra, sempre nel titolo, vedete, mascherine verso lo stop all'aperto. Crollano i contagi, nessuna regione in rosso. Da metà giugno potrebbe arrivare l'ok per le feste di nozze, ma per togliersi la mascherina all'aperto bisognerà aspettare la fine dell'estate. Quindi ancora c'è un po'. Sempre sulla questione dei vaccini, ma la vicenda di quel medico di famiglia di Falconara che ha inoculato acqua, sostanzialmente una soluzione fisiologica al posto del vaccino, perché era stressato dai suoi pazienti che volevano a tutti i costi il vaccino, il vaccino, il vaccino, il medico a un certo punto ha detto sì, sì, te lo faccio io il vaccino, vieni qua, punturina di un secondo con qualche goccia d'acqua e così per far tacere tutti questi molestatori. Questi molestatori, tra virgolette, ovviamente sono stati i beffati, chiamiamoli così, del vaccino. Questa volta hanno ricevuto la dose, quella vera, e raccontano un po' come era andata questa esperienza. Lago due secondi, non era neanche acqua, al distretto sanitario di Collemarino questi 34 pazienti del dottor Costantini di Falconara hanno finalmente ricevuto la protezione. Intanto la notizia è che la squadra mobile intanto è ancora a caccia di prove e poi il dottore, appunto, questo medico ha indagato per falso ideologico e lesioni. All'inizio avrebbe anche ammesso tutto quanto. Andiamo a Pesero invece adesso. Sul carino pagina 7 asfaltano la rotatoria. Anche ieri giornata campale per gli automobilisti che protestano perché hanno fatto, praticamente hanno asfaltato la strada la rotatoria di Loreto a mezzogiorno. Quindi code, caos, proteste di mezza città. La ditta dice dovevamo farlo alle 7 di mattina ma si è rotta una macchina che ci ha fatto ritardare i lavori. Andiamo nella provincia di Fermo soltanto per questa notizia di cronaca dal Corriere. Tre operai cadono dall'impalcatura, sono gravi, sciocca il cantiere del sisma, incidente sul lavoro da mandola, stavano verniciando un cornicione alle palazzine per gli sfollati. Da Urbino invece al Covid Hospital stoppa i trasferimenti dei medici, lo assicura il consigliere regionale e cancellieri, mai più sforzi così intensi e poi la variante per la moschea di Fermignano è in ritardo di due anni. La richiesta di trasformazione da centro sociale a ente di culto risale all'aprile del 2019. Da Senigallia callano i positivi su tutto il territorio, Senigallia ha un trend ondulatorio ma sta scendendo, Maglia Nera invece ha tre castelli dove purtroppo i casi rimangono. Poi il Ponte 2 Giugno lavori quasi al termine, a fine mese l'opera sarà consegnata, saranno installati dissuasori per alternare traffico, auto e pedoni mentre per le due pagine di sport ho segnalato quella del Fano perché è in silenzio stampa, il Fano va ai play out per non retrocedere dunque ci va in silenzio. Da qui al 22 maggio infatti parleranno solo i dirigenti nel tentativo di far stare tranquilla la squadra. Il direttore generale Bernardini poi dice siamo tutti focalizzati su un obiettivo che a mio parere è alla nostra portata cioè l'obiettivo è la salvezza del Fano. Il chiarimento poi vorrei anche dire che non c'è stato nulla sopra le righe tra me e Tacchinardi che è l'allenatore del Fano ma un confronto tra DG appunto e allenatore. Per quanto riguarda invece la pagina 40 del Corriere Adriatico volle i Diamantini Diamantini lo ricordiamo è un giocatore della Lube Macerata ma è anche un fanese quindi è un atleta fanese Diamantini rinnova il puzzle della Lube ora prende forma il centrale fanese Felice dice voglio continuare a vincere sotto invece la Medestor squadra di Palavolo di Macerata si giocherà la promozione in A2 contro Motta di Livenza la semifinale è di fatto una finale perché vale la promozione. Allora ci salutiamo siamo in chiusura alcune informazioni per quanto riguarda il nostro palinsesto di oggi allora abbiamo 7.30 in diretta la messa da Loreto poi alle 9 la diretta da Fano una diretta molto interessante una conferenza stampa di presentazione di un progetto che è il progetto della nuova biblioteca federiciana di Fano è davvero una conferenza da seguire poi alle 15 dalla cappellina della Divina Misericordia qui di Fano TV come sempre il rosario e la coroncina 17.30 la messa 18 invece dalle Filippine in diretta il rosario poi alle 9 di questa sera dopo il Tg delle 20.30 avremo a esplorare i confini con orizzonti di robotica e Bruno Siciliano dell'Università di Napoli Federico II credo che sia davvero tutto allora grazie per averci seguito buona giornata a tutti voi grazie per aver guardato